Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Esatto, è la prima challenge del 2020 e questa challenge l'ha inventata a colui che si era a mia destra. Moltestamente, sono venuto a scoprire i challenge. Infatti ormai ho paura quando torno dal lavoro e mi dicevo... Sono uno scopritore di challenge. Ecco, comunque la challenge di oggi, spieghi un po'. Allora, vedete questa ciotolina? Io faccio la valletta. Eh, capitale di Malta. Sì. Vi metteremo il video... La ciotolina di mia nonna, questa tra le altre cose. Vai, figa. Sono da mia nonna, ciao nonna. Ok, non c'è più. Dai, andiamo avanti, se no non finiamo. Dai, partiamo, dai. Questa ciotolina? Non ci si vede, ok, ci si vede bene. Questa è composta da 21 biglietti o più perché questi, sotto questo bigliettino, ci sarà una lettera, io lo apro. Dell'alfabeto. Esatto, una lettera. Eh, bisogna specificare. Dell'alfabeto italiano, specifichiamo anche la lettera dell'alfabeto italiano. Mhm. Pesco questa lettera, la apro e devo dire una cosa che appartiene a lei. Una o due cose. Io devo dire una cosa che appartiene a lui. Bene, qual è la cosa come scontata? Bisogna dirlo. Capito. E niente, la challenge consiste in questo. Vediamo chi conosce di più l'altro. Chi conosce di più il portano. Esatto. Vada, chi vince sta partita? Oh, facciamo ora, vincerei tu, dì, non sei sicuro. Vai, due. Due. Zero. Quattro. Vito. Prema le donne. Questo è il galateo. Ehi. Altare, altare. Non ne ha perso nessun'altra, no? Ah che non è un nuovo tegaminio da cuocere? Es. Ah. E? E? Abbiamo 30 secondi adesso, facciamo partire il timer, abbiamo 30 secondi. In ordine, chi parte tu? Ovvio, chi l'ha pescata parte per me. Vada, 30 secondi partiti. Sì. Sì. Lo so. Anch'io. Dilla. Allora, senza, no, no, non facciamo passare i 30 secondi. Vai, bisogna vedere se è giusto. E? Elicottero. E ho una spiegazione curiosa e affascinante per dire questo. Spesso io non ho voglia di spostarmi da una stanza all'altra. E gli chiedo a lui... E siamo alto di elicottero io. E li chiedo... Allora l'hai pescata tu? No, perché fai il mio medico di trasporto e quindi mi è venuto l'elicottero, mi è venuto in mente te. Tu sei mamma con la partita aggredica? Arrivati. Oh, però... Ah beh. Mi sei venuto in mente tu. Grazie. Prego. Mi commuovi. America. Abbiamo una cugina di tutti e due in comune che si chiama Erika. Io non ho cugina che si chiama Erika. Ah no? La figlia di Sabrina? Ah, già, è vero. Magi sta anche contando. Ciao. Scusa, non mi ricordo una volta dove ci stengo. Scusa. L'ho messa a dettare. Ops. Eh, beh. Ah. Vai a partire un po' in grado. Però, devo dire di te va bene. Eh, però è in comune. Stiamo aspettando. Ah, ho capito, ho un dito malandato. Anch'io mi sono sbagliata prima. Per tagliare i datter mi sono sbagliato un dito. C? C. Farò vedere bene. Allora, quindi siamo 0 a 0. Perché lo sapevamo tutti e due. Sì. Quindi io dico C. No, vabbè, che si è frappato il tempo. Allora, il C. La prima direi che C. Hai preso la casa nuova qui in Bergamo. Poi un'altra cosa, ancora C. Io non so una. Però è un po' generica. Tua mamma ha origini calabresi. Sì. Stavo parlando io dritta. C. 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 Sì, ma non parla. Io ho pensato una cosa generica. E non va bene. Che è il cibo. Perché lui dice sempre che io sono brava a cucinare, gli piace quello come cucino, gli piace quello che cucino. E poi a volte mi prende in giro, tra virgolette, diciamo così, perché non si può dire l'altra parola, quando mi dice che mamma cucina meglio di me. Non è vero. No. Dai, fai il sonno. E quindi? Eh, siamo due a uno per me. Perfò? E tu hai chiuso un'altra cosa, e siamo due pari, parla al centro. Cuscino. Perché spesso io durante il pomeriggio ho sonno, mi addormento ovunque, io sono un po' un ghiro e un bradipo, e trovo la sua panciotta troppo patatosa, io spesso mi addormento sopra, io uso la sua pancia come cucina. Capito. Oh, è vero? Sì, è vero. Ok. Va. Quindi non usiamo più il tempo? Ma no. Ok. Abolita la legge del tempo. Bravo. Che c'è? Non ho più la gamba. No. Ti si vedeva il ricotto? Tu non c'è la fidanzia di il ricotto? Eh, lo so. Povero come i bravi. Andiamo avanti. Non posso fare l'attaccione o qualcosa? Q. Allora, lei tante volte... Non devo partire io. Ah sì, ah sì. Eh, beh, parlo prima io, mai. Cui, cosa fai? Perché cambi? Non sto cambiando, sto, mi stavo divertendo. Vai, io lo so, ve lo dico in prima io, allora. Mm, vai. Perché tante volte lei giù così, le dico stai su, se no sempre Quasimodo. E chi era Quasimodo? Il combo di notte dà? Dopo in privato ti spiego perché faccio Quasimodo. E... E dove sono? Chiara, ti vado a spartare. Vai, ti vado. Dai, la saprai? Ah, dobbiamo mettere le foto dentro i quadretti. Mm. Quindi? Quadri, quadretti. Quadri, quadretti. Devo appendere anche il quadro che mi hai regalato con la nostra foto. Eh, deve farne di cose. Devo fare, non ho augurato l'ora. Non ho tempo. Non ho mai tempo. Devo fare anche l'elettricista, però vabbè. Dai! Tocca a lei. Eh, però non hai detto che hai detto da tu, da tu. Io l'ho detto il quadro. Non abbiamo fatto i quadretti, sembra che parlassero con me, non con loro. Eh, no. Perdonate, non ha specificato bene. Non ha frustato il più domani. Non ha la fissera. No, no. Sono le bolle dentro il vetro. Bolle, bolle, blu. Qua facciamo le palende greche romane tutte insieme. Oh, sì. Un quadratura storta. Che è? Y. Che cazzo l'hai messa a fare? Non lo so. O se puoi leggere con una L? No, una Y. Oh, se ci viene, bene. A lei piace la Yaris come macchina. Chiarola, mi hai burlato in faccia. Sì. E mangio anche io, senza lattosio. Perché con la Y, con la, non è quella, sì, è quella giusto. Mangio yogurt senza lattosio perché sono intollerante alla lattosio perché se mangio un yogurt normale faccio tipo use in volte e mi chiudo in bagno per tipo due ore. Lo fai anche senza prendere le cose collate, tranquilli. Non è vero, poi lo sei tu al mattino dopo aver fatto colazione. Bene. Poi? A me non mi viene niente in mente di te, però io ti conosco meglio io di te. Allora comprami una Yaris. Va bene. Nera. A tre porte. Andiamo avanti ho perso. Tocca a me quindi? No. Ah sì, te. Ma le deviamo far tutte? Cerchiamo. Eh, capi. Aiuto! Che non lo geniti si è chiusa nel bosco? Non uscivo più da presa. Eh, sta fatta malattola. Sì, perché l'ho ruminata. È perché qualcuno l'ha piegata male. Ti ho fatto più bella. No. F. Lui è il mio fidanzato. Il nome è proprio. Si chiama Federico. È il mio fidanzato. Vorrei andare tanto a Firenze con lui. E basta, ci ho detto troppo. Ama mangiare. Ma vuole stare in dolce? Non mi fa. Non puoi questa. Ok. 10 secondi scompare. No, non mi scompare. Vabbè, poi. Mi ha detto due. Io dico allora, tu hai una zia Forlì? Che quando va a ballare con il piede fa così. Se ho una zia Forlì adesso è morta. Vabbè. Vabbè, una zia Forlì. Forse. Chi lo so. Io anch'io lo so. Non le piacciono i fuchi? Che sono i maschi delle api? Non mi piacciono le api in generale. Hai paura del fuoco? Perché si è data a fuoco un ditino? Al miglior. Esatto. E niente. Guarda, come è? Una parentesa, non ho paura. Non mi piace. No, hai paura. Ma ne volte che vedi il fuoco scappi. C'è un nuovo primeritivo. Però mi piace vederlo. Mi attrae. Mi piace vederlo? Il fuoco. Dai, smettila. Andiamo al fuoco. Andate bene. Facciamo gli ultimi giri per... O li finiamo? No, non riusciamo mai. Se ci velocizziamo riusciamo a finirlo. Sennò... Dai, apro io, amore. Che sennò qua si muore fra la... Quei coglioni. Si chiama... Si chiama... Si chiama... E fa' il culo. Ha! Io ne so. Siamo andati in diversi... Oh, euro. Era quello che volevo dire. Io e te. Però non vale. Avevamo pensato di hotel tutti e due. Non lo so io che ho pensato. E' tutto dentro di te. Quindi potreste avere completato la mia idea. No. Siamo andati in diversi hotel. E il migliore per adesso per me... Posso dire che è stato un guardo di... Ma erano belli tutti. Il più bello del lavoro è stato... Per me è Parma. Mi è piaciuto un sacco quello di Venezia, ma... Mi manderemo il link, non è bio. Parma e Venezia. Volevo dire anch'io te, però... Vada via e chat. C'è Harrison Ford. Che autore. Che ha fatto... Harrison Ford ha fatto... La mummia. In Star Wars. Cosa? Chi se ne frega il Star Wars? Mi viene in mente chi ha fatto, però va bene. A me quella H mi viene in mente. A Kimi. Terzino adesso al borso d'orto. Un tasso 98. In prezzo di un real buddorito. H. I.V. Io non ce l'ho. Eh? H.I.V. Io non ce l'ho. Ah, ma un mare. Antaro! Sempre perché sei bello cicciotto e morbidoso. Non c'entra. Sì, mi ricordo di un croccietino. Antaro. Guardalo. Guarda che a me. Non lo so, per... Vabbè, ho perso. No, tocca a te. Ho fatto io l'altro. Con le lettere del popò? Ultime due lettere. La sua e la mia. Ok. W. Waffer. Perché quando siamo dalla nonna mangiamo sempre i waffer. Ma i mangiati? Sì. Mangiamo sempre i cookies dalla nonna? No, ci sono anche i waffer dalla nonna. Io mi li ricordo. Una volta li avremmo mangiati. Eh, io li... Io li ho mandati... Rewind. Io li ho mangiati più spesso. Siamo dalla nonna. Ciao nonna. So che ci guardi. Ciao nonna. Il waffer. Il waffer. No, Rob, posso dire una cosa all'inglese? Water. Perché siamo andati spesso al mare insieme, siamo andati alle termine insieme. All'atulanza. C'è l'acqua. Ma che cosa ti sento? Cosa ti parla di Daniele all'inglese? Dei waffer che ci ha portato anche Paolo. Ah, sì. Ma al mare l'ho dato io, quindi non c'entra. Mi ho dato i waffer della nonna che erano buonissimi e me li sono portati anche dentro la borsa. Uff, ma ne ho neanche fatto uno. Sì, quando siamo andati al mare, un paio di giorni prima del mare, la nonna mi ha dato i waffer. I waffer. I waffer. E io mi dicevo, ora mi dobbio di col waffle. Perché me li fa sempre questa vaccona qui. Adesso me li fa di meno. Sì, perché preferisco i panchechi, perché i waffer hanno una lavorazione diversa. E poi mi dice sempre, faccio quello che dici te. Amore, fai waffle. Il giorno dopo ti vedi invece il porridge. E ti dico, oh, che cazzo fai? Però ringraziami che una volta dovevo uscendo da Milano mi sono svegliata prima e ho fatto i panchechi. No, non ti serve solo per i panchechi perché sennò non riuscivo a fare la pallincia. L'avevo già fatto la pallincia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ultimo mio. E chi dice che abbia vinto o no? Mi sto divertendo. Io sono sotto di due però. Sei sotto di due? Come facciamo un po' più? Avevo capito. Perché non ho detto quella della Q e della H. No, quella della Q l'ho detta. Quella della Y e quella della H non ho detto. Io l'ho detto tutto. Tu sì, io no. Quindi conosco tutto io. Lettera N. Allora, con la lettera N si può dire che lei... Non ti azzardare a dire quello che sto pensando. Allora, una volta sono andata a fare l'aperitivo al Neniva. Sì. Poi l'altra cosa è coerente. Sono andata a bere anche i sette nani. Cosa c'entra? Nani. Sette nani in secolo S? Gna gna. A lei non piace Napoli come città? Ma io stavo convincendo ad andarci una volta. Non è che non mi piace. Mi piace ma non mi ispira ad andarci. Mi piace bella. Per carità è tutto bella. Sì, lo so. E vi faremo un po' le oga anche dove vi faremo vedere tutte le regioni d'Italia. E poi basta. Napoli. Nasello. Il narvallo. Nocerino. Niente. Stavo pensando un po' di pari. Però non mi viene così niente o no? No. Nonna. Suocere. E Nicoretta. E chi è? Ciao. E sua mamma. Mi stavo dimenticando della suocere. No. Nicolò, che è il suo cognato. No. Il cognato è il mio fratello. Te lo salutiamo. Ciao Nico. È sempre. Anche il tuo migliore amico Nico. Nicolò. Sì. Ciao Nic. E boh, non mi viene più niente. Che da te? N. Ciao. Questo video finisce qua. Eh già. Spero che vi sia piaciuto. Spero che... Spero che vi sia piaciuto. Portate pazienza. Spero che vi abbia fatto ridere. Io sono diventata dislessica nel corso del video. Ho smesso di fare... È sempre un ringo indigno. Io arrivo a una certa... Ah bene. A una certa che non so più parlare. E vabbè. Iscrivetevi al canale. Mettete un bel like a questo video e a tutti gli altri video. Quindi andate a vedere anche gli altri che non vi siete persi. Che non vi siete persi. Che vi siete persi. Scusate. Mi ha confuso lei. E niente. L'inquadratore. E attivate da notifica delle campanelle. Di na 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 na. Ossia. La campanella delle notifiche. No no no. Vabbè. Niente che lui sa più parlare. Però va bene. È l'età. Eh che avanza. Come si avanza. E niente. E nulla. Ci vediamo nel prossimo video. Il prossimo video sarà un... Maybe blog. Maybe qualcos'altro. Non lo so. A febbraio ci saranno un sacco di contenuti rispetto a gennaio. E vi divertirete ancora di più. Ci sarà una cuciniamo insieme. Qualche vlog e un'altra challenge. A presto. Ciao gente. Ciao.